Ciao a tutti, sono Emilio Solfrizzi. Volevo dirvi che il Teatro Coccia è un teatro bellissimo, un teatro meraviglioso, un luogo d'arte, di cultura, di divertimento, un patrimonio di Novara, ma anche un patrimonio di tutti quanti noi. Un baluardo di civiltà. Troppo. Insomma, pensatela come volete, io sostengo il Teatro Coccia. Vado in scena.